Twin Boost qui parliamo di un classico booster ma attenzione è due canali quindi abbiamo possibilità di impostare due booster differenti e in più abbiamo un equalizzatore per ogni canale ad esempio io ho impostato questo pedale con questa parte che riguarda semplicemente l'equalizzazione per avere un suono più scavato nel senso che ho tolto delle frequenze medie aggiungendo un po' di basse e di alte mantenendo il livello pressoché intatto da quest'altra parte invece ho settato il mio secondo canale invece come un booster di volume quindi dando più livello e per uscire nei soli ho aggiunto un po' di frequenze medie quindi la possibilità di avere nello stesso pedale due soluzioni diversi si può usare come un equalizzatore classico come un booster come un booster più un equalizzatore quindi assolutamente molto rossatile e da avere assolutamente nella catena della pedaliere come un po' di frequenze 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 Grazie a tutti